Un uomo sospettato di essere l'organizzatore dell'attacco alla metro di San Pietroburgo avvenuto due settimane fa è stato arrestato vicino Mosca. È stato identificato come Abror Asimov, nato nel 1990 ed originario dell'Asia centrale. Sarebbe agli arresti nella città di Odinzovo, a ovest della capitale russa, dove è interrogato dagli inquirenti. Si tratta della nona persona arrestata nell'inchiesta sull'attacco compiuto dal kamikaze chirgiso di Etnia Uzbeka di 22 anni, Akbardion Djalilov. Asimov è accusato di aver addestrato Yalilov ad usare la bomba che poi utilizzò, compiendo la strage. Gli sono stati sequestrati due smartphone che aveva con sé.